Eccoci qua Luciano, è quasi mezzanotte, abbiamo trovato questa prima vittoria del 2015 in campionato, una partita lunghissima, molto bella da vedere, da giocare, com'è stata? Beh, diciamo che è bello sorridere dopo tanta fatica, ce l'abbiamo visto nera all'inizio, dopo con diversi cambi abbiamo trovato l'atteggiamento giusto per affrontarlo e dopo la partita è stata punto a punto, quindi se abbiamo vinto noi potevano vincere anche loro, quindi diciamo che è stata, non ti dico che meritata, però si è voluta e adesso dobbiamo riposarci da giovedì che veniamo delle maratone, delle partite, allenamenti, quindi penso che è qualcosa di positivo aver preso questa prima vittoria in casa e speriamo altrettanto le prossime domeniche. Senti, da scarso ex valleggiatore da un certo punto in poi la palla andava quasi sempre dietro? Beh, ogni tanto ci vuole, anche se a me giocare così semplicissimo non piace, però era la unica forma di fare punti e ovviamente ci abbiamo provato con tutti gli altri e non ci siamo riusciti e quando batta in serata dobbiamo approfittare, lui è stato anche bravo, concentrato, tranquillo, gli altri hanno capito la situazione, ci hanno sempre dato il loro supporto, quindi anche se lui ha fatto una migliaia di punti, la partita comunque è di tutti e ogni tanto ci vuole e oggi meno male che c'era, quindi grazie anche a lui. Assolutamente, assolutamente anche perché come dicevi prima sono state probabilmente le forze fresche, quelle che due giorni fa non avevano giocato, penso a Barone, penso a Sander, a dare un po' più di brio, un po' più di entusiasmo anche in campo. Sì, ogni tanto ci vuole anche l'aiuto di tutti, noi siamo anche se giochiamo in sette la squadra è lunga, ci alleniamo tutti i giorni, tutti possono fare un po' la differenza, fare un cambio di partita, quindi oggi si è visto anche con il gioco quando è entrato, anche se in attacco che il suo forte non ha fatto gran cosa, ma in difesa ha fatto delle cose grandissime, ha tirato fuori i palloni che noi gli abbiamo per persi, quindi diciamo che questa è la squadra, piano piano ogni giocatore prende un ballo raggiunto, oggi abbiamo vinto così e siamo contenti. Grazie Lucio Lecce.